In via D'Amelio, in quell'inferno, vide movimenti strani o persone sospette. Mi riferisco alla vicenda dell'agenda rossa, scomparsa nel nulla e mai più ritrovata, su cui Borsellino annotava tutto, sicuramente anche lei l'avrà annotato, lavorare su questa agenda, appuntare pensieri, non solo appuntamenti. Borsellino annotava tutto quello che stava facendo, stava sentendo che ha spremuto lo che ha parlato di Contrada, che ha parlato di Signorino. Contrada è stato condannato, Signorino dopo che l'abbiamo interrogato a Caltanissetta si è suicidato. Questo già la dice lunga. Io sono arrivato quando l'agenda rossa era già scomparsa. È stata repertata una borsa, dove era l'agenda, che era integra, la borsa in perle di Paolo Borsellino. Dentro addirittura c'era un costume nylon che indossava poco prima e che era altamente infiammabile, che si sarebbe infiammato prima ancora dell'agenda. E c'era la batteria del cellulare, Motorola, che è questo che le sto mostrando, che è ancora annerita dal fumo, dallo scoppio. Questa batteria era integra dentro la borsa, come lo era il costume e come lo era la borsa. L'agenda era dentro la borsa, la batteria è rimasta, il costume pure, l'agenda è sparita. Quell'agenda rappresenta la scatola nera della Seconda Repubblica. Partendo da quell'agenda si può capire chi voleva fermare Borsellino a Roma, l'incontro al Ministero dell'Interno, organizzato da Parisi. Io ho dimostrato con i tabulati che Contrada era a Roma quel giorno, e questa è una circostanza che non era mai emersa prima di ora. E questo segue quel cambio di rotta al Viminale, che segue all'elezione dell'aprile del 1992. Quando c'è una svolta nella lotta alla mafia, e c'è una svolta nella lotta alla mafia con due alternanze. Rognoni e l'ingresso di Mancino al Ministero dell'Interno. E l'ha messa da parte di Scotti, che aveva fatto tantissimo nella lotta alla mafia, che era stato uno fra i promotori di quel famoso decreto di cattura del 1991, quando la Cassazione aveva messo fuori i boss mafiosi con una scusa, e che furono riportati in carcere con un provvedimento del governo, che aveva fatto e dato ausilio a Falcone affinché potesse attuare con martelli, quella famosa rotazione, chiedendo al Presidente della Cassazione Brancaccio, attraverso il monitoraggio delle sentenze che io poi ho trovato nei computer di Falcone, la rotazione e l'assegnazione dei processi, che salvò il maxiprocesso e che decretò la morte di Falcone. E Scotti doveva uscire dal Ministero dell'Interno, perché c'era qualcosa che era cambiato nei rapporti tra la politica e la mafia. E Scotti dovette pure uscire dal governo, perché pur essendo nominato Ministro degli Esteri in quel gabinetto in cui Mancino era andato a sostituirlo all'interno, con una scusa qualche settimana dopo la strage di Via D'Amelio si dovette dimettere pure da Ministro degli Esteri. Questi sono i segni evidenti di come la politica abbia agito in perfetto raccordo con quelle che sono state le trattative, con gli elementi stragisti di Cosa Nostra. Forse l'hanno fatto per paura, forse l'hanno fatto per codardia, forse l'hanno fatto per ambizione, non lo so, io non voglio avanzare elementi di colpevolezza o di rilevanza di questi fatti su un piano giudiziario, posto che saranno i magistrati a doverlo accertare. Io posso solo dirle che sul piano politico quella classe dirigente che si è perpetuata in questo sistema e che ha fatto parte di quella che oggi vuole accreditarsi come la sinistra del rinnovamento di cui lo stesso Mancino faceva parte, lo stesso Mancino che io ho poi rincontrato al Consiglio Superiore della Magistratura nella vicenda Uanotte e nella vicenda di Salerno, in cui non mi lascio certo prendere dagli atteggiamenti trionfalistici di De Magistris che ha fatto una marea di errori, ma che è una gran persona per bene, una persona onesta che forse l'unica cosa di cui avrebbe bisogno è un bel bagno di umiltà. Torniamo a Via D'Amelio, anche in questo caso come fu per Capaci fu incaricato di indagare sulla strage e fu lei a scoprire che il telefono della madre di Borsellino era stato intercettato abusivamente, del resto era l'unico modo per capire quando il giudice si sarebbe recato a trovarla? Sì, questo è un elemento di partenza come lo sono una serie di dati che riguardano i contatti telefonici di Borsellino, quello che Borsellino stava facendo, perché quello che ancora qualcuno non vuole capire è che quella strage deve essere cercata in quello che Borsellino stava facendo in quel momento e in quello che si voleva impedire che Borsellino facesse. Inutile andare a cercare sulla Luna o su Marte le causali di una strage. Una persona viene uccisa in quel modo, con quella accelerazione che viene dimostrata da elementi che sono incontrovertibili. E in quel contesto io mi opposi decisamente a dei farlocchi che stavano entrando nell'indagine, Candura, Valenti, che interrogrammo per primi con il magistrato Petralia, che capì perfettamente la delicatezza di quelle assunzioni testimoniali e di quanto banale era il quadro indiziario che veniva a profilarsi con dei soggetti totalmente inaffidabili che si assumevano il ruolo di referenti di Cosa Nostra, persone totalmente inaffidabili come Scarantino, a cui io non ho creduto e ho messo per iscritto queste cose. C'è una mia lettera, dal 7 dicembre del 1992 al questore di Palermo Matteo V, questore insufficiente pure nel cognome, che è la cartina al tornasole di come in effetti io denunciai sin da allora quelle che erano state gli errori di impostazione in un sistema che voleva solo creare a tutti i costi dei colpevoli per addebitare alla mafia quella strage, la mafia che certamente aveva avuto un ruolo ma che non era esclusivo della mafia. E questo avviene dopo la decodifica di quel databank di Falcone che io avevo eseguito qualche settimana prima e quando io tornai con la decodifica e trovai i contatti di Falcone con uomini della politica, il viaggio negli Stati Uniti e altri elementi nel databank cancellato, io fui trasferito, da che dirigevo due uffici con la lettera di Parisi, io fui trasferito al reparto mobile e il mio incarico più importante fu quello di andare a fare ordine pubblico allo stadio la domenica pomeriggio. Questo per dire quello che è stato lo stato di quel ministro dell'interno che si chiama Nicola Mancino che decapitò la squadra mobile trasferendo la Barbera e costrinse i magistrati di Caltanissetta alla creazione del famoso gruppo di indagine Falcone e Borsellino salvo poi la piega che prese la Barbera con la promessa di diventare questore abborti tutto basandosi su Scarantino. Parliamo del monte che sopra sta Palermo e in particolare via D'Amelio, il monte Pellegrino secondo lei è proprio da lì che parti l'impulso che aziona l'autobomba? Questo non l'ho mai detto il Castello Ottoveggio era un'ipotesi di lavoro che diventa importante solo nella misura in cui tanti cercano di smentirla o hanno cercato di smentirla sin dal primo momento. Una cosa è certa l'impulso è partito da chi aveva la perfetta visione del luogo della straccia quindi bisogna cercare un luogo distante da Via D'Amelio perché se fosse stato in Via D'Amelio sarebbe stato travolto dall'esplosione da cui è stato azionato il congegno. Quella era un'ipotesi di lavoro come tante scartare queste ipotesi di lavoro nel nome di altre ipotesi mi sembra qualcosa di sbagliato come volerla accreditare a tutti i costi che è una cosa che io non ho mai fatto. Questa storiella o questo luogo comune del Castello dimostra certamente che là c'erano delle entità che venivano dall'alto commissariato per la lotta alla mafia persone che avevano lavorato con Contrada che erano amici di Contrada ci sono dei contatti telefonici di persone che sono state condannate con sentenza definitiva per quella strage mi riferisco a Scotto ci sono dei contatti con un altro boss mafioso di Bagheria scaduto che chiamava al Castello Ottiveggio che doveva essere un centro per eccellenze e mi pare che costoro non erano sicuramente delle eccellenze se loro signori mi spiegano il perché di queste chiamate spiegano cosa ci facessero quelle persone là e spiegano perché quando sono state quando sono iniziate le indagini queste persone sono scappate da lì se ne sono andate e hanno chiuso questa struttura probabilmente è un punto di partenza per mettere una parola fine in questa vicenda in questa storiella del Castello Ottiveggio quello che è certo che in quella strage ci sono dei mandanti esterni ci sono degli esecutori esterni che non hanno niente a che vedere con Cosa Nostra perché ci sono ormai dei pentiti di Cosa Nostra trasversali in tutte le famiglie in tutte le direzioni che hanno consentito di fare luce su tutti i delitti che sono avvenuti a Palermo eccetto su due la strage di Via D'Amelio e l'omicidio Agostino insieme a quello di Emanuele Piazza tutto si riconnette a due episodi la strage della D'Aura l'attentato della D'Aura e l'attentato di Via D'Amelio e lì che casca l'asino e che casca l'asino in quel 1989 in cui molti di quei signori che in questo momento sono ai vertici della Polizia di Stato e dei servizi di sicurezza probabilmente dovrebbero chiarire meglio qualche cosetta di qualche mese precedente a quella strage ma questa è materia che vedremo e spero di campare per avere il tempo di potermi vedere tutto questo film fino alla fine